12 anni dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, ci sono solo i crateri in via Santa Croce, a pochi passi dal tribunale aquilano, a testimoniare dove si trovavano 5 condomini privati, abbattuti e a tutt'oggi non ricostruiti. Le palazzine erano edificate in un'area particolare, vicino alla chiesa sconsacrata di Santa Croce e alla cinta di mura storiche, in particolare nel luogo dove un tempo si trovava la distrutta Porta Barete, che sarà riqualificata per farne un sito archeologico un parco. Secondo un vecchio progetto dell'amministrazione di centro-sinistra, sposato anche dalla nuova di centro-destra. Queste peculiarità hanno provocato rallentamenti burocratici con effetto paralisi. Alcuni cittadini esasperati hanno cambiato casa, finanziandola grazie al meccanismo dell'alloggio equivalente. Ma c'è chi non si arrende come Dina Pelliccione, che accusa il comune capoluogo. Io penso che un cristiano abbia il diritto di sapere quando casa sua verrà ricostruita. Purtroppo noi non sappiamo ancora nulla su pensi, non sappiamo neanche come verrà casa nostra. Eppure siamo i committenti, roba dell'altro mondo, da Repubblica delle Banane.